ok questo è un talk molto speciale perché per la prima volta nella mia vita da community manager anziché ricevere una pool for papers mi scrive e fa ti devo chiamare ti devo far vedere una cosa mi ha fatto vedere quello che vedrete voi oggi e non gli ho potuto dire di dopo quindi niente ti lascio il palco e ricordo quelli che è stato da casa e quelli che è stato qui possiamo fare domande alla fine noi e raccogliamo poi le facciamo alla fine ti faccio segno quando va che tempo e proviamo a non andare troppo lunghi dai dai dici ok ciao a tutti grazie a michele per la presentazione come vedete mi chiamo alessio iafrate sono uno sviluppatore freelance microsoft mvp è un pelo nerd non so se si nota però la cosa vedremo un pelo cominciamo dal titolo blazer 3000 chi l'ha capito perché era fatta apposta no 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 bravo ok uno dei pochi che l'ha capito era fatta apposta quindi immagino avete cercato blazer 3000 chissà che si sono inventati che invece no niente hai visto però dovevo stuzzicare la fantasia cominciamo con ringraziare gli sponsor che naturalmente hanno permesso di essere oggi qui sia a noi che a voi ci hanno offerto il pranzo il caffè tutto e ringraziamo naturalmente le community di cui faccio parte anche di qualcuna qua e là che ci spendiamo sempre per appunto per organizzare questi eventi e fare in modo che possiate goderveli nel modo migliore questa sessione sarà un po abbastanza strana un po fuori dalle righe quindi spero di potervi lasciare un po di informazioni sparse qua e là sia legate a blazer sia non ma che comunque fanno sempre parte del carderone che secondo me uno sviluppatore nerd deve avere nell'agenda appunto molto sommariamente vedremo una parte di hardware di software andremo un po nel dettaglio di come sono state implementate alcune cose se naturalmente avete delle domande le potete fare poi qualche spunto di riflessione su alcuni dei tanti problemi che ho riscontrato andando avanti su questo progetto prima domanda perché immagino che un po tutti stai chiedendo sì ma perché fare una cosa del genere perché no tanto diciamo che la pandemia ci ha dato un po di perché spento e allora mi allarghi l'inquadratura se no come facciamo mi mandi online pieno io tanto non vedo assolutamente niente la stanno guardando quindi questo casco qui perché lo è stato fatto è stato fatto perché passare tempo pandemia figli un po bisogna un po staccare no quindi se sei nerd hai delle tecnologie le vuoi usare qualcosa di inventare io nel da un po di tempo che mi diletto con la stampa 3d quindi perché non provare a fare qualcosa di un po più complesso cosa sono andato utilizzare sono da utilizzare quello che avevo come bagaglio di conoscenza e quindi sono partito utilizzando una raspberry p3 viso a studio con appunto blazer dot net code e tutte quante tecnologie che andremo a vedere una stampante 3d dell'hardware che vedremo nel dettaglio magari qualcuno non lo conoscevate come non lo conoscevo io prima di darmi da fare con questo progetto bombolette spray stucco tanta carta vetrata e un sacco di pazienza e un po di bestemmiette varie andando in giro per il progetto perché usano raspberry perché perché tutti quanti usano arduino se cercate in giro è pieno di progetti simili ma tutti quanti utilizzano arduino quindi nella mia pergrizia cc plus plus no non mi va di rispolverarlo volevo usare le tecnologie appunto che utilizzo tutti i giorni quindi c sharp mettiamoci in mezzo un bel blazer e appunto volevo anche realizzare una parte web che se voi andate a cercare tutti quanti progetti si limitano tutti quanti all'interazione tramite pulsanti o interruttori e quindi è venuto fuori tutto questo progetto così organizzato se voleste avere la pazza idea di replicarlo potreste tranquillamente utilizzare anche una raspberry p2 se ce l'avete a casa perché adesso costa una fucilata comprarle nuove ma manca il bluetooth è un po più lenta diciamo ce la potreste fare ma conviene utilizzare la pre la seconda domanda che immagino avrete in testa è perché utilizzare blazer ho voluto utilizzare blazer perché voleva avere una risiabilità del codice mi interessava utilizzare dotnet core vedremo dopo perché per farli interagire con altre applicazioni volevo appunto avere la compatibilità con la raspberry che al momento avevo ma non limitarmi a questo magari nel futuro spostarlo su altre schede più economiche più piccole che supporteranno dotnet core e soprattutto volevo avere in modo semplice e veloce un'interfaccia web c'è questo tarlo di avere interfaccia web poterlo comandare da dovunque e blazer mi sembrava la assicurazione più tranquilla e più semplice da effettuare piccola nota per farvi capire un po non so quanti di voi sono hanno mai avuto a che fare con una stampa 3d o stampanti 3d quello che succede è abbiamo il nostro bel file virtuale 3d in questo caso nel stl andiamo a trasformarlo con dei software appositi in una serie di istruzioni g code che la stampante riesce a leggere e quello che fa non è altro che mettersi lì e fare riga per riga per riga per riga tutta quanta la nostra struttura quindi se contate una maschera del genere ci mette un 8 9 ore 10 ore in base al costo della stampante in base anche alla velocità che andiamo a utilizzare naturalmente non voglio farvela semplice perché se vabbè mi compro la stampante 3d domani lo faccio pure io no volta che il video di stampa un bel po di olio di gomito quello che otteniamo è una cosa del genere come vedete con i layer il risalto quindi le varie righette che comunque si vedono in base alla risoluzione a quanto abbiamo spinto andiamo di stucco primer varie volte n volte finché non siamo soddisfatti del lavoro e poi pian piano cominciamo a colorarla come vedete là sotto ci sono un po tutte e tre le fasi la maschera è colorata la parte dietro del casco bianca è lisciata e col primer e la parte nera è ancora come uscita la stampante quindi si vede il giro a 360 e quindi fidate non è una cosa da poco quindi non uscite subito che voglio la stampante 3d perché è semplice una scelta che ho dovuto effettuare quando volevo capire come sviluppare era naturalmente se utilizzare pleasure client o server la scelta è andata sulla versione client naturalmente per questioni di performance perché abbiamo una raspberry che ha la potenza che ci serve ma comunque è ridotta quindi avere sempre un canale di comunicazione aperto poteva essere comunque pesante quindi sono andato tranquillamente sulla versione client tanto il client che si connetterà sarà al 99 per cento più potente della raspberry quindi sfruttiamo la potenzialità del client e poi naturalmente utilizzando blazer client sono stato costretto e la cosa mi sarebbe ritornata utile in seguito a creare delle piai quindi per far comunicare la parte client con la parte server e appunto avere l'interazione che mi interessava se volessi fare la stessa cosa e voglio utilizzare blazer su raspberry o due modi o va di installare dotnet core all'interno dei raspberry quindi con dei comandi bash che vedete qui vado a installarlo e a renderlo anche predefinito lanciabile da qualsiasi directory oppure visto che io ad esempio di linux non ne mastico praticamente per niente la soluzione che ho scelto è quello di deployare una self contained app in questo modo quando vado a fare la pubblicazione ho tutto quanto il mio bel pacchetto che contiene la mia versione di dotnet core e che possa andare ad eseguire quindi io lancio o questo comando se sono da visual studio code oppure dalla console di visual studio oppure nel mio bel publish possa andare a cambiare le impostazioni dando il target in questo caso a me era la versione 6 e dicendogli che vado in self container mode e in specifico il runtime linux una volta fatto questo all'interno della mia cartella di pubblicazione avrò tutti i file già parchettizzati ed eseguibili da linux quindi vado semplicemente a prendere la cartella vado a copiarla all'interno del mio raspberry e quello che vado a fare è appunto poterlo lanciare poterlo eseguire una volta lanciato da riga di comando unica attenzione che dovete fare quando andate a copiare dovete dare i permessi di esecuzione sul file principale che avrà il nome del progetto quindi se si chiama iron immaginiamo questo progetto si chiamava iron man io avrò il file iron man su cui dovranno andare i permessi di esecuzione poi lo vedremo nel dettaglio vi farò vedere come come funziona tutto ciò abbiamo visto cosa ci serve lato client per preparare la raspberry quello che dobbiamo andare poi è vedere quali sono le interazioni hardware di cui avremo necessità in questo caso quello che andremo a sfruttare sono i pin delle 5 volt la terra due un pin per gli occhi che sarà possibile accenderli e spegne un altro pin per i led che sono posizionati della parte laterale non sono molto visibile adesso nella posizione in cui è e due servomotori quello che andremo a fare appunto è collegare l'hardware di cui avremo bisogno se vi interessa questi potete ritrovarli tranquillamente a pochi euro su aliexpress questi sono due motori che andranno a lavorare insieme per aprire il casco vi farò vedere lavoreranno in combinazione quelli che vedete lì sono dei led indirizzabili anche con il colore in questo caso sarà possibile quindi cambiare il colore dei led quelli che vedete lì giù non non si vedono benissimo ma sono questi occhi qui vengono già venduti su aliexpress per utilizzarli su qualsiasi tipo di maschera e possono essere alimentati una batteria a bottone oppure alcuni hanno la presa usb quindi in questo caso si taglia il cavo e lo colleghiamo alla raspberry molto semplicemente abbiamo un relay appunto per attivare gli occhi perché altrimenti sarebbero sempre accesi invece noi vogliamo staccargli la corrente riattaccarla e se vi interessa due componenti carini sono queste guaine termorestringenti già saldanti quindi unisco due fili vado con la pistola aria calda e li saldo senza saldatore quindi ad esempio per fare le deviazioni a 3 a t e utilizzato quelli piuttosto che impazzico a saldare e questi altri qui che sono molto carini sono per fare le giunzioni tra vari fili con una semplice crimpatrice e ci permettono appunto di attaccarli e staccarli in modo molto veloce sono utilizzati all'interno delle macchine soprattutto le centraline e in questo modo possiamo andare a attaccarli e staccarli molto velocemente e questo è tutto l'hardware che sono andato utilizzare quale con una piccola demo quello che ho ottenuto naturalmente sì lo vediamo quello che sono andato a realizzare quindi è l'applicazione blazer con un po di fantasia ho targhettizzato con una bella immagine e la possibilità appunto di comandare la maschera che ci permette appunto di accendere gli occhi con un semplice clic appunto attivando il relay no sto scherzato basta poi ci siete cascati quindi vuol dire che la cosa era fattibile quindi abbiamo appunto dicevamo gli occhi accesi la possibilità di gestire i led sulla parte laterale e la possibilità appunto di gestire l'apertura e la chiusura del casco con due semplici la prima volta già applauso posso andare tranquillamente quindi potevo entrare anche col casco però un po troppo sberone in teoria va e misura non ho anche la misura mia quindi fatto sul mio bella stampante 3d e che te lo fai è proprio al centimero xxl capoccione pure gli occhiali sì che stavo dicendo ok che fa che fa ok tutto questo casino per fare questo giro di in più abbiamo questo ho realizzato anche una parte di gestione un po più avanzata in cui posso andare a controllare ogni singolo motore in cui posso dare le angolazioni dei motori sia il motore 1 e il motore 2 di apertura e di chiusura e sia l'impulso minimo e l'impulso massimo che deve essere configurato questo perché perché per far per fare appunto l'operazione di apertura naturalmente ho dimenticato la foto abbiamo due motori abbiamo due motori che lavorano in contrapposizione tutto sto casino per romperlo no anche no grazie abbiamo due motori che lavorano in contrapposizione quindi avranno gli angoli che sono opposti quindi in fase di apertura uno sarà in questo caso 20 e l'altro 160 nell'altro caso sarà 160 20 quindi andranno in opposizione e perché configurarli? perché non è banale cioè non succederà mai che è 0, 180, 180, 0 l'angolatura varierà in base alla grandezza del casco a quello che è quindi fare le prove ogni volta doverlo ricompilare era scomodo quindi mi sono fatto un'interfaccetta di comando per gestire la cosa questi sono impostati ogni volta così poi come vedremo dopo c'è un file di config in modo molto banale per questo diciamo che questo mi serve se devo fare due prove al volo la prima volta di configurazione lo attacchi provi i due valori e poi ti arriva a sapare il config comunque il sorgente è su github poi te le do l'indirizzo quindi se volete salvarlo pulsantino salva se vi interessa la maschera invece sta lì quindi se vuole contrarlo no era quello vabbè gestione dei led e una cosa carina che potrete trovare nel codice se vi interessa è come fare lo spegnimento reboot della raspberry direttamente dai piai ho dovuto girare un po' tante cose non funzionavano quindi se volete un consiglio ve lo potete se vi serve ve lo andate a rubare direttamente nel codice perché non mi piaceva sinceramente staccarlo poi ho detto lo riaccendo non funziona disgrazia quindi sono andato direttamente sul cercare di spegnerlo nel modo più umano possibile anche se il power off comunque lascia accesa l'alimentazione cioè il raspberry si spegne però comunque l'alimentazione rimane quindi si potrebbe mettere un relay là come mi ha detto qualcuno però troppo dopo la spina la possiamo staccare tranquillamente ok come è fatto questo progetto il progetto prevede quattro sottoprogetti appunto i primi tre qua sopra sono quelli che vengono in automatico generati da blazer quindi avremo abbiamo detto la parte client la parte server dell'API la parte shared delle opzioni e poi quest'altro progetto l'ho realizzato in quanto aveva la necessità di avere anche il controllo vocale quindi in teoria io se gli dico apri non funzionerà mai l'ho trattato male lui si permetterà si aprirà in automatico chiudi un po' di ritardo di internet che non ci collabora chiudi non non vuole collaborare vado con reboot? no va bene andiamo ho fatto con l'Azure Speak ho fatto riconoscimento vocale che appunto normalmente funziona ambiente tranquillo funziona oggi naturalmente effetto demo non gli va non gli va si è messo a paura la prima volta che esce si vergogna e appunto avevo necessità di fare queste operazioni e quindi ho fatto un altro programma che avrei lanciato come servizio in cui appunto sarei stato in ascolto sul microfono e per non andare a inserire anche qui il codice sono andato direttamente a chiamare l'API che avevo realizzato su Blazer quindi tutto quanto il controllo della parte hardware per adesso passa esclusivamente dall'API quindi tutto il controllo di pin dei relay e tutto quanto è tutto tramite l'API poi inserendo i pulsanti sarà necessario inserire il controllo anche dalla parte server però ho perso il fuoco questo powerpoint dai ok non collaborare ok che librerie sono andate a utilizzare se vi può interessare quindi sono tutte librerie .NET Core quindi compatibili sia con Blazer sia con qualsiasi altra applicazione che volete fare sono due librerie quelle di bindings e GPIO che appunto ci permettono di accendere e gestire i vari pin in questo caso per tutto quanto la parte di elettronica del sistema e in più queste altre librerie che vi dicevo qui giù che adesso hanno fallito naturalmente perché servivano quelle di riconoscimento dello speech e in teoria anche nell'audio in quanto se ci attacchiamo le casse riesce dovrebbe riuscire anche a darti delle informazioni stavo cercando la voce sintetizzata di Jarvis ma non l'ho trovata quindi ancora stiamo in questa parte che sta in fase di sviluppo però naturalmente già c'è tutto un mp3 che puoi lanciare tranquillamente qual è il risultato? vabbè il risultato è questo che abbiamo visto adesso avrei voluto farvelo vedere dopo ma a questo punto abbiamo un po' invertito la situazione come ok come dicevamo prima appunto questo è il progetto di cui stavamo parlando e la parte che ci interessa a noi è forse un po' di più la parte del controller lato server in cui io sono andato a fare tranquillamente tutte i get a cui vado a richiedere accendimi led chiudimi led spegnimi led e sono andato a lavorare con i vari device di cui avevo necessità una cosa interessante è questo utilizzo delle immagini che funziona per i led zoom scusa ma sei anziano sei anziano? diciamo che questo è codice piuttosto generico utilizzato sempre lo stesso utilizzato per accedere ai device se qualcuno di voi ha visto un po' di IoT è sempre lo stesso in questo caso siamo andati si va a operare sui led passandogli un oggetto immagine che in questo caso è vuoto invece se andiamo a vedere l'accensione gli vado a settare il pixel il colore del pixel e poi lo passo all'oggetto del device di gestione dei led e quindi lui mi accenderà ogni singolo led col colore che io gli sono andato a passare quindi in teoria con quel tipo di strisce che avete visto prima che si chiamano sp 2812b quelle là posso indirizzare ogni singolo led con un singolo colore quindi puoi andare a fare tutti i giochi che ti interessa quindi come immaginerete l'idea è piazzarli per tutti quanti l'armatura e farci vari giochi di luce ancora più su baroni che possiamo immaginare e un'altra cosa che forse penso possa interessarvi appunto è la gestione dei motori poi vi potete sprucciare tranquillamente il codice se vi interessa ma quello che viene fatto in ogni singolo motore è muovere appunto come abbiamo detto in contrario al contrario tutte quante le posizioni quindi uno partirà da 180 e va a 0 l'altro da 0 a 180 e andranno alternati i singoli movimenti coi vari step come vedrete diciamo il discorso che facciamo prima c'è comunque anche nelle slide però visto da codice forse è più è più gestibile come impostazioni quello che sono andato a fare che comunque è buona norma in tutti quanti i progetti è cercare di parametrizzare tutto quello che era possibile perché la cosa poi interessante del progetto Blazor su .NET Core è che se io in real time vado a modificare uno di questi valori alla chiamata dopo già ho i valori modificati senza dover avviare niente quindi testo molto veloce vai là modifichi il file e hai appunto l'oggetto cambiato come vogliamo noi in questo caso io sono andato a mettere tutto su config quindi gli angoli dei motori che sono quelli che dicevamo prima che io passavo da file di testo il minimum pulse e il maximum pulse quindi l'impulso per l'apertura minima e massima del motore la velocità del motore quindi io posso andare a fare un movimento più lento o più veloce del motore anche i pin dei led e le posizioni dei vari led che in questo caso voglio andare a accendere quindi io non è detto che possa avere una catena di led e decidere che quelli che io ho qui dietro sono il numero 4 il numero 5 e accendere solo quei due quindi in questo caso questo è l'indice del led da andare a accendere e questo è il colore del led in questo caso blu prima se avete visto l'accensione era blu quindi immagino sia piuttosto questa era la slide di quello che dicevamo prima appunto alcuni spunti che secondo me possono interessarvi perché io ci ho sbattuto un po' la testa anche forse perché non sono come dicevo molto pratico di Linux era come far avviare appunto queste app in automatico perché abbiamo detto che ho fatto una self-contained app quindi avrò il mio chiamiamolo eseguibile su Linux che se eseguo da linea di comando partirà però io non è che posso andare manualmente ogni volta che accendo il casco quindi sono andato ad utilizzare systemd creando un file del service il file è molto semplice gli passa semplicemente il nome e alcuni parametri in questo caso restart sempre perché voglio che se muore per qualsiasi motivo deve essere ritirato sul servizio e visto che appunto l'app è self-contained gli posso dare direttamente il nome dell'eseguibile da lanciare quindi come se vedete qui non c'è .net e i vari parametri e l'indirizzo di lancio proprio perché viene considerata come un'applicazione attiva una volta che io l'ho fatta come self-contained app e poi vabbè alcuni comandi se vi interessano per abilitare e poi far partire questo servizio questo systemd viene utilizzato sia appunto per la parte web app sia per l'altra applicazione che vi dicevo che continuerà a girare costantemente per gestire in questo caso il parlato riconoscimento dello speech un altro problema che si riscontra è che se io vado a lanciare la mia applicazione la vedo solo all'interno della raspberry quindi se vai in desktop remoto sulla raspberry lo vedrò lì qual è la soluzione più semplice per me che ho trovato è quella di installare nginx e di editare il file di configurazione se vi interessa dandogli semplicemente come location l'indirizzo in cui si avvia la mia applicazione in questo caso la mia applicazione si avviava su localhost 5000 e in questo modo io non so se ci avete fatto caso prima basta che metterò l'ip della mia raspberry e poi sulla porta 80 riceverò risposta dalla mia applicazione in questo modo quindi il secondo step che volevo raggiungere è stato fatto in questo modo se voi vi collegate ma non potete perché ho fatto il wifi non al wifi della mai fare quell'errore e potreste utilizzarlo anche voi qualsiasi device potete utilizzarlo altre cose ancora più nerd da fare l'ho connesso anche con la stream deck abbiamo le API ci sono dei plugin della stream deck che ci permettono di fare delle chiamate API quindi perché non farsi i pulsantini con possibilità di aprire e chiudere il casco tu dirai che ci devi fare se sembra aprire e chiude no però mentre ci lavori magari è comodo piuttosto che fa sembrare un pazzo dall'altra parte della casa e continua a dire apri chiudi spegni quindi questi vabbè sono alcuni link che vi lascio che sono appunto quello di cui abbiamo parlato e i vari tips che sono inserito per engine x appunto come dicevamo e l'avvio delle applicazioni e questo qui è il github la prima riga basta che cercate anche solo il mio nome aiafrate e sono i sorgenti di tutto quanto l'applicazione quindi se vi va vi volete divertire non ci sono problemi magari se volete farlo fate un fisco e ne parliamo insieme avete domande su allora ma sei stato di una precisione sconvolgente qua mi capite gli unicorni la prima domanda che arriva da casa è dove è il resto dell'armatura work in progress io ho visto uno dei pezzi il problema sono le misure come puoi immaginare quindi stiamo un po' sto cercando di lavorare sono altre domande a parte ok perfetto qui si se cerchi suezzi faccio prima quella non io no semplicemente volevo sapere se la libreria system device GPIO era di microsoft oppure era di terza parte si di microsoft si queste si sono tutte le librerie solo net core audio non è di microsoft le altre sono tutte standard in teoria non sono non sono per raspberry solo quindi si quindi funzionano su qualsiasi qualsiasi cosa allora volevo sapere quanto è utilizzabile in ambiente di produzione cioè quanto è stabile il raspberry se volessi farci un qualcosa di qualcuno ride no va bene non è un device da produzione è considerabile solo per hobbistico però c'è qualcosa che sì cioè c'è qualcosa che mi permette di fare lo stesso in maniera stabile o soltanto proprio prototipo cioè c'è un altro prodotto che è più affidabile da utilizzare nel senso di hardware sì sì vabbè ci sono hardware che supporti core in core sì ci sono vari hardware anche industriali che supportano dotnet core ok diciamo che la base di partenza di questo non è di certo un progetto industriale quindi la cosa più comoda e più semplice è raspberry che ha sia un costo accessibile sia più o meno se siamo un po' smanettoni ce lo ritroviamo in casa e collegarci invece un monitor e quanto è complesso tra l'uscita hdmi lo colleghi e funziona ah ok è già integrata sì puoi andare anche in desktop remoto tranquillamente con raspberry appunto per la semplicità proprio se giove prende un arduino che non ha la porta audio la porta hdmi e tutto la comodità appunto di raspberry che è un po' più grande però ci fai ci fai quello che vuoi quindi per progetti così hobbistici per divertimento secondo me non si batte ok grazie semplice altre domande eccolo microfoniamolo dove passano la prima è che stampante 3d hai usato il costo della stampante 3d bella domanda macro prezzo io ne ho due una un po' più cinese una un po' più di meno però quello che conta è il costo il materiale quanto tu ci vuoi buttare su perché questo lo tiene tranquillamente con una stampante a 300 euro se ci smanetti un po' la configuri bene ci lavori poi dipende dall'area di stampa quindi quanto lo vuoi fare grande se naturalmente come puoi immaginare più piccola area di stampa e meno costa la stampante quindi uno di questi per esempio sulla stampante piccola che di solito sono 23x23 non ti c'entra potresti tagliarlo tramite software lo tagli però poi lo devi più eh lo devi rimettere insieme ristucca moltiplichi il tempo di lavoro quindi è sempre un bilanciamento tra quello che vuoi ottenere e quanto vuoi spendere ok cioè se ti prendi una prusa da 1200 euro la metti e vai tranquillo siamo tra i 300 euro i 500 euro no arrivi anche a 10.000 euro no beh dico per fare qualcosa per fare cose del genere sì dipende da quanto ci vuoi lavorare cioè se devi cominciare io ti consiglio una stampante ma soprattutto tanta pazienza per scartavitrare stuccare e quant'altro e beh immagino e suppongo che il materiale è una plastica particolare che a tutti si sente ci stanno vari tipi di materiale quello che si usa di più è il PLA che è più semplice da stampare però il limite maggiore oltre a un po' più di rigidità è che si rompe più semplicemente che non sarebbe un problema ad esempio per cose tipo queste è che se lo lasci sui 40-50 40 gradi si comincia un po' a deformare quindi se tu lasci in macchina all'estate ti ci fai il portacellulare e te lo ritrovi un po' per un po' curvo questo invece tipo è P&TG che è un po' più resistente resistente arriva sui 60 gradi è un pelo più rognoso da stampare ma non tanto e poi c'è i vari step in base alle stampanti al tipo di stampante a quanto vuoi immagino che spende sono aperte sono chiuse perché queste diciamo hanno un livello di tossicità molto basso non dite lo puoi stampare tranquillamente a casa con una finestra aperta se comincia a salì comincia a essere eh filo si bobine di filo si FDM queste con la resina no quelle c'hanno primo un problema enorme di misura cioè non arrivano a dimensioni più grande cioè quelle FDM le trovi anche 50x50 per ditti è solo quelle là conta che hanno lo schermo LCD con quella risoluzione che va a favore la resina è tossica quindi va trattata con i guanti con la reazione va smaltita è quello il motivo per cui io non l'ho mai preso non la prendo in considerazione perché stando nello studio ok non mi interessa cioè la cosa questa la prendi la togli e è pronta quella invece la devi lavare la devi curare coi raggi ultravioletti la devi andare toccandola coi guanti è un po' più è più bella perché ottieni una cosa del genere senza scartavetra o che te la trovi già bella liscia 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 perché hanno risoluzioni conta questa questa è una risoluzione normale 0,16 mm 0,12 poi arriva a 0,10 quelle ci hanno 0,05 0,02 ma con meno supporto si si giusto così per nota informativa abbiamo sempre la fisica di mezzo quindi quando qua vai a stampare le varie righette a un certo punto potresti avere dei pezzi che stanno nel vuoto tipo in questo caso gli occhi immaginiamola appunto piantata così a un certo punto sto pezzo sta nel vuoto se io vado a tentare di tirare un qualcosa a un certo punto quello fisica se ne apre giù e quindi ci sono questi qua che sono in colore verde che vengono appunto detti supporti perché supportano quelle strutture che da solo non ce la fanno a reggersi che poi devi andare rimuove e ti lasciano il pezzo che non è bellissimo e devi scartare tra di più quindi ti devi divertire orientare in modo sì sì ve lo vuol dire questi disegni qua li hai fatti te li hai presi qualche parte ma esistono già fatti oppure tu prendi una foto jpeg e la dai no no quello è un 3d oggetti di 3d perciò tu l'hai trovata già fatta questa l'ho comprata per dirti la verità perché comunque hanno delle complessità elevate dimmi se se sforo tanto perché è sentato l'altro speaker ah però devi far vedere qualcosa al volo ok a volo eh no giusto per farvi capire ma tingi verso tingi verso si trovi tutto ti mettevole il microfono perché non so se si sente ah scusami ah 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 questo per esempio è il file che di cui parlavamo che è un file 3d quindi tu c'hai tutta ordiniamo la scena cioè non è un file vedi cioè non può essere un'immagine deve avere perché poi quando lo devi stampare non è che ti viene il 2d stai sempre nel 3d quindi altre domande nessuno applauso applauso applauso